Che ti hanno detto in ospedale, Damien? Il Charter Hospital mi ha diagnosticato una mania depressiva. Ora sono in terapia e prendo l'imipramina per la depressione. Tu che pensi? Cos'ha provato l'assassino? Gli è piaciuto. Era felice. Il brivido della morte. E tu, Jason? Conoscevi tre bambini? No, signore. Ci credi in Dio? Sì, ci credo. E tu invece, Damien? Tu credi in Dio? O al demonio? Io ci credo a un Dio, ma il mio è donna. E credo a una forza del male, non a un demonio. Ho frequentato la religione Wicca e stregoneria bianca. Come già vi è stato anticipato, oggi parliamo del nuovo film di Paolo Sorrentino. E la novità è che ci saranno anche Jane Fonda e Rachel Weisz nel cast di Youth, La Giovinezza. Il regista napoletano, vincitore dell'ultimo premio Oscar con La Grande Bellezza, comincerà a girare il suo nuovo lungometraggio alla fine di maggio. Le due attrici si aggiungono ai già annunciati Michael Caine, che dovrebbe essere il protagonista, Harvey Keitel e Paul Dunn. Ci saranno presto nuovi aggiornamenti, quindi se vi iscrivete al nostro canale resterete aggiornati. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!